Eh, siamo tornati su Clash Royale, è sempre un grande piacere giocare a Clash Royale con voi Non so se avete seguito la live di lunedì, ma incredibilmente abbiamo fatto una settantina di fiocchi Sono quasi commosso all'idea che sto salendo, quindi oggi io mi aspetto una discesa clamorosa insieme a voi Subito un bel pollice in su per il vostro CiccioGamer89 Vi voglio ricordare che qualora voi spendiate ancora qualche soldino su Clash Royale Se mi volete supportare, quello lì è il mio codice creatore CiccioGamer89 Il deck con cui io ieri stavo giocando effettivamente è questo qua E infatti al limite possiamo continuare a giocarlo O vogliamo provare a cambiare e a mettere questo qua Proviamo a cambiare e a mettere questo qua Perché pure in live mi avete detto Ma se stai a vincere con quello perché cazzo lo cambi Ma avete detto proprio così E io vi dico, regà, ma che vedevo di... Io mi diverto con entrambi i deck Però è anche vero che quando... Quando uno trova i counter non è che puoi fare altro, eh Questo è un deck molto, molto, molto difficile per me Veramente tanto Io dovrei essere un nulla sopra Facciamo così, vediamo lui che fa Vediamo che fa, lo so è una giocata un po' strana Mi rendo conto perché tanto lui se ne andrà dall'altra parte Ma a noi che cosa ce ne frega Ok Pensavo Pensavo invece Adesso ci può stare Adesso ci può stare Non mi dispiace Così tanto Peccato che lui mi è arrivato un po' Bravo, dategli una bella pizza La tronco ci sta Non gli ho fatto praticamente niente Per il momento tutto a posto E... Se posso dare un pronostico Io non la vinco Poi Quello che succede Succede Non lo so Però io questa non la dovrei vincere Immaginavo Vabbè io ho dato un po' di valore Io ho dato un po' di valore Qua devo stare semplicemente attento Devo aspettare un pochettino Perché questo qua C'ha la madre Di un altro pianeta Apocalittico Incredibile Poi devi anche Sponare l'altro Effettivamente Questo deck Lo conosco Purtroppo bene Purtroppo lo conosco bene Questo deck Purtroppo sì Purtroppo sì E non è molto piacevole Tanto qua possiamo fare così Non è un problema Che in realtà Qua sarebbe davvero ottimo A uscircene Così Che ci può stare E allora la vedo leggermente più complicata Di quello che era Dico la verità La vedo leggermente più complicata Se posso dire Perché lui ha valore Con tanta roba Lui ha valore veramente con tanta roba Quindi o qua Attacco Molto Però lì c'ha torre bombardiera Ragazzi Torre bombardiera Di solito io non la racconto Di solito Torre bombardiera Non la racconto Ragazzi Di solito Mi dispiace Ma non la racconto Lui ha veleno Che non mi ha attirato Questa volta Ovviamente possiamo fare così Che Mi vada a risparmiare Un po' di impicci In realtà Lui sta Sprecando Tantissimo Elisir Io Ci sto provando Ma veramente Raga è Ok Qualche dannino Ma Qualche dannuccio Oddio Qualche dannuccio Un paio Oddio L'ho vinta Oh mio Dio Posso terminare Il video qui Mi prego Posso terminarlo Qui il video Dai mi prego Dai sono così Incontento Di aver vinto La prima partita In un video Dai posso terminarlo Qua Dai Guardiamoci in faccia Per il restante Dei 5 minuti Dai vi prego Dai Madonna Guardiamoci in faccia Vi prego Dai Non sono un bel ragazzo Vai per favore Ma guardiamoci in faccia Dai Dai Facciamo Giochiamo a scala 40 Facciamo una monopoli Non Monopoli Facciamo monopoli No eh Vabbè scusate Scusate Volevo Volevo essere contento Volevo essere contento Dico la verità Non Mi aspettavo di essere Stato così in gamba Ok Potrebbe essere mirror No Non so Ipoteticamente La gente Beh Se non sono mirror Azzo ci manca Senti la mia strega Ok Vorrei facesse qualcosa Non credo che voglio abilitare Ragazzi Non credo di voler abilitare Anzi facciamo così Ti attrago a me Così si abiliti Sta a becchi là Dono splende Erzole Ok No Pensavo che In un modo O nell'altro Ok Ci può stare C'è lui la veleno Qui Non Non so perché Ha giocato così Non ne ho idea Ma non è che mi interessa Più di tanto Io vado da quest'altra parte Giusto Io direi di sì Guarda c'è pure Bruce Lee là Che sta incazzato nero Guarda questo qui Ha preso L'ha preso gigante Regà O sbaglio Mamma mia Ma no regà Devo finire questo video Non mi fa di fare un'altra partita A me A me non mi va Non mi costringete Vi prego Guardiamoci Guardiamoci le anatre Su youtube Vi prego Cerchiamo Anatre Vi prego Facciamo Facciamo altro Oddio ragazzi Ho 1600 fiocchi 1600 Mettono fiocchi Ragà Mamma mia Dai non mi fate giocare Quanto stiamo a 7 minuti Non voglio fare un'altra Non c'è nessuno Che possiamo vedere Qualcuno di fortissimo No eh Cioè non Guarda c'è un sacco di gente Pure a 3000 fiocchi Perché dobbiamo Vi prego Vi prego Perché Ricordatevi questo momento Mortacci vostra Ricordatevi Io ce lo scrivo 1600 fiocchi In questo video Me ne fai un cazzo A me Perché tanto adesso Vedrete C'avrà il domatore Carte strane Mi aspetto Veramente Mannaggia però Ma neanche a far così Neanche a far così Non me lo merito Non me lo merito Non me lo merito Mai Io purtroppo Non credo Che Ok Mica brutta Cioè nel senso Ho fatto quello Che potevo Allora lui Io Faccio una Predizione sul futuro Io questa Non la vinco E voi dite Oh però No Regà Pirotecnica Mi fa male Mi fa tutto male Non posso vincerla Questa Abbiate pazienza Voi dice Eh ma Tu c'hai la terremoto Sì sti cazzo Potevo abilitare Forse prendermi Però non ho voluto rischiare Vi posso dire la verità Lascio Bruce Lee Alle sue cose Perché lui mi tira la terremota E mi fa danni sotto torre Eh Verdi dal culo Faccio così Che qualche maiale Io lo tiro fuori A me che me frega A me che me importa C'è sta Secondo me c'è sta un botto Sapete Boh Far sopravvivere lei Tirare un cazzo Di fireball Su di lei Vedete che mi piace Lui c'ha la tronco Ricordatevelo eh Si mo mi fa la tronco Lo so Però Non mi sembra brutta 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 Come situazione Ma che danno L'abbiamo fatto Ma Lo so regà Lui È Un dito al culo Regà Lo so perfettamente Dice Ci amatristi faci Eh non so Ma Ce la potrei Mica ha detto Che ce la famo Per forza Partiamo Andietro Ma Si Potevo Riabilitare Lo so Lo so Lo so Forse Forse Uno dai Uno Tu madre Beh di certo Volevo proprio lui Guarda Grazie Grazie davvero Proprio la cosa Vicestitutine Vicestitutine Purtroppo Eh ragazzi Eh mi ha preso Il sopravvento Però Non mi posso Di niente Cioè Nel senso Nel senso Va bene così Torre infernale Là davanti È infernale Davvero Torre infernale Là davanti È infernale Proprio Poi la pirotecina Qua andi dal culo Pazzesco Come lo fermo Il domatore È infermabile Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta E io ve l'avevo detto Però Io ve l'avevo detto Non me fate Ne fa un'altra Faccio l'ultima Così almeno Arrivo paro Ricordatevi Che comunque A 1600 fiocchi Ci eravamo arrivati Ricordatevelo Ah Maizioni Me lo so Ho sentito il domatore Me lo son sentito Il domatore Ragazzi Ma io Porla Madonna Comunque Quanto lo conosco Sto gioco Siate sinceri Dai Adesso non mettete No ma quanto Minchia lo conosco Sto gioco Raga Siate seri Quanto lo conosco Lo conosco Lo conosco Troppo Raga Troppo 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 Non mi può Aver senso Eh Guarda me ci sta Ci sta tutto Per il momento Minatore colossale È difficile Da gestire Non so che Io per il momento Vado tutte e tre qua Non è un problema Anche se abilita Ah Il stesso tech Direi ma Più o meno Vado di qua Non è male Quel moschettiere Figlio di pulla Ok Devo fare attenzione Ahia è fatta Meno male Sono contento Ma L'apide è molto forte Lui c'ha la terremoto Purtroppo Ho un comincio A veramente E non sto a scherzare A cicla Facciamo così Che secondo me Ci può stare Mortaio Domatore Raga Da sentirsi male Non Mi sa che io Ho dato pure Le sir Mannaccia Quella Broccola Secondo me Ha senso Secondo me Lui c'ha Tanto valore Raga Lui c'ha Veramente Un botto Un botto Di valore Mamma mia Quanto Ok Io farei così Farei così E cerchiamo In un modo O nell'altro Ok Non la sto Giovando male Cioè non posso Dire di starla Giocare male Secondo me Buono Molto Buono Bravo Mirko Bravo 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 Basta Non ci gioco più A Clash Royale Basta Va bene così Posso dirlo Che va bene così Abbiamo fatto Più 30 Meno 30 Più 30 Più 30 Raga Abbiamo fatto 60 Ma va bene Ragazzi E ditemi Che non vi voglio bene Perché potevo stare fermo A tre partite Non fate quattro Sono un eroe Ho fatto A sé Ho fatto 15 minuti di video Madonna raga Ciao 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 Ciao